Attenzione! Avvisiamo che dalle ore 25 di lunedì 25 luglio 1 alle ore 6 di lunedì 26 per i dati di ripristino dell'infrastruttura la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di palo della Lucania e Sanque sulla linea Napoli-Reggio Calabria I treni subiscono cancellazioni e sostituzioni con bus Maggiori informazioni sui siti web, sui canali digitali o presso il personale di assistenza